oh benvenuti benvenuto a tutti controllo che ci sia il microfono giusto perché mi fa questo è infatti sbagliato perfetto salve sono al calin hammer benvenuti sul mio canale e oggi è venerdì e quindi ci sono le arca news cosa sono sto format di news della settimana reaction trailer recensioni dei film appena usciti grandi avvenimenti come lo sciopolo degli sceneggiatori nuove notizie in generale siamo ormai al dodicesimo video di questo tipo lunedì e venerdì vi invito a iscrivervi perché ho nuovi formati nuovi format come quelli per esempio del quiz del cinefilo che sarà il martedì e il giovedì ne sono usciti due questa settimana quindi da coprire lunedì martedì giovedì venerdì che cos'è il quiz del cinefilo quindi ci domande divertenti sul mondo del cinema e quindi rispondete perché e mi dite quanto fate sotto nei commenti e essenzialmente questo non farò non vi dirò le mie ultime recensioni perché magari spuntano qui nei banner quindi non perdiamo tempo sono senza l'ospite quindi lo facciamo noi in tutta tranquillità e andiamo l'altra volta sta tutto a posto perché altra volta avevo problemi quindi quindi primo tema ieri ho portato la recensione di barbie e se vi va se la volete ascoltare più lunga andate lì a recuperarla ma vi metto nelle schede qui in alto poi dopo comunque barbie no spoiler poi lunedì ne parliamo meglio allora in america c'era il fenomeno come si chiamava che univa barbie e openheimer i due nomi perché uscivano nello stesso giorno in america per cui hanno fatto quel sailor folle dove essenzialmente si vedeva che nel mondo di openheimer dopo con la bomba atomica si poteva andare in quello di barbie c'era questa follia con la musica tutta seriosa e poi c'era barbie vabbè comunque questo è un'ottima campagna marketing marketing che ha portato almeno per quanto so io a primi giorni un grande incasso sono andato al cinema e ho visto al primo spettacolo barbie e vi ho portato la recensione cosa penso è un film aspettiamo dividiamo l'effetto che avrà sulle persone sicuramente molto positivo molto frezzante molto nuovo piacerà e sarà odiato quindi dalle cinque stelle all'una stella raramente vedete una via di mezzo è un film che lavora bene che vincerà dei premi che diventerà un nuovo piccolo cult per quello che il film vuole fare ed è anche per me il grande difetto che lo rende un film molto molto modesto anzi brutto perché barbie vuole che è diretto dalla gerwick e scritto dalla gerwick suo marito noah baumbach noto autore noto regista sceneggiatore di storia di un matrimonio per esempio wet noise e altri e hanno fatto una cosa che io io trovo squalificante ma per alcuni potrebbe piacere hanno voluto rendere un film d'autore un film commerciale perché senza andare troppo negli spoiler posso dirvi che se c'è una prima parte dove si mostra il mondo di barbie con tutte le estremismi la presa in giro le battute un po così demenzialotte si gioca molto sull'intrattenimento e già nel primo tempo si va nel mondo nel nostro mondo nella realtà per cui ci sono gag di barbie che non sa come si fa una cosa come ken che non sa qua nel mondo reale così quindi si gioca molto sul facile poi si aggiunge la componente successivamente buono contro cattivo e diventa un film estremamente di propaganda femminista ma quella più beccia quella più brutta quindi è un film che gioca sporco gioca sporco perché ti dà l'intrattenimento ti dà le lucine ti dà le canzoni ti dà gli attoroni ti dà quell'ironia spiccia ti dà tutto quello che vuole il pubblico ridere dire anche io farei così sono l'italiano medio anche io farei così però nella seconda parte diventa un martirio nel senso che è tutto smonologhi politici in cui ovviamente le donne sono sempre migliori degli uomini a prescindere dove gli uomini il sistema patriarcale quindi diventa un po parere una buffonata da social e questo piacerà molto all'academy agli oscar ai social alle persone che aspettavano solo questo film per iniziare di nuovo questa guerra maschi contro femmine che io non sopporto non sopporto nel senso che non sono maschilista quello non sono misogeno ma non vuol dire che devo accettare tutti i film femministi in una in una maniera ulteriore che ci sono problema che è visivamente interessante il film lasciando perdere questa roba è essenzialmente troppo perché vuole far ridere in una scena in quella successiva vuole farti riflettere poi farti commuovere poi ti vuole far ridere di nuovo in modo demenziale poi ti vuole far ridere in modo più intelligente poi diventa drammatico poi serioso poi comico poi action è un mischione di generi che sembra sconclusionato e mi sorprendo perché alla base c'è uno sceneggiatore come nova baumbach anche se non è il regista e sappiamo che il regista vince sul sempre sullo sceneggiatore perché può cambiare le carte in tavola oltre che essere la moglie dello sceneggiatore quindi si si comprendono alcune dinamiche quindi è un film che trovo manifesto di questo 2023 nella maniera peggiore e c'è poco da dire poco da commentare guardatelo e fatemi sapere perché perché se si voleva ragionare sul tema del femminismo non c'è alcun tipo di dialogo soprattutto se il tono è sempre parodistico quasi sempre poi molto serioso ma solo per fare lo smonologo della donna non è serioso perché c'è uno scontro fra le due parti no come poteva essere storia di un matrimonio di baumbach che aveva questa caratteristica di dialogare fa la donna e l'uomo e noi spettatori davamo un un giudizio esterno e quindi erente un film intelligente questo è un film intelligente quindi è un film sciocchino che ha delle pretese a mio parere secondo argomento che ho scoperto da poco stamattina quindi ci sta the marvels reaction trailer nuovo film di marvel studios che arriva a novembre passiamo cinecomica in realtà è blue beetle agosto poi questo poi acqua man credo mi sono perso qualcosa no vediamo questo brutto sto verde ce la faremo diciamo questo no no non mi piace qua marvels così prossimo film the marvel studio quindi che tratta ma io avevo aperto la pagina di the marvels vabbè che tratta delle tre super eroine o parte delle tre super eroine del nuovo corso mcu una è una vecchia conoscenza carol denver senti però da brie larson l'altra è monica rambo abbiamo visto in manda vision tipo da tenoya paris e poi c'è kamala kandi di miss marvel la serie che mcu quella meno vista sulla piattaforma di irman velani va bene c'è anche nick fury quindi si tratta di una minaccia spaziale e devo dire ho guardato devo subito chiarire una cosa è una cotta clamorosa per brie larson quindi oltre che siamo bellissima non forse non è la più bella come filtro di instagram cioè ce ne sono di più belle probabilmente ma brie larson mi piace proprio come si pone ed è una mia ho un piccolo innamoramento per l'attrice brie larson per come si espone per come è per il suo sorriso quindi sono un po di parte da un certo punto di vista infatti miss marvel no sì no che no ma perché miss marvel capite a marvel il film non è granché però lei è brava e io non lo trovo così odioso il suo personaggio dell mcu tanto detestato perché forse uno dei più seriosi a me piacciono i personaggi seriosi in un contesto anche comico potete dire ma capità marvel è sempre lì che non fa mai un sorriso ma è perché un certo tipo di personaggio quindi c'è brie larson è un po di parte però in realtà il discorso faccio non sarà di parte e abbiamo monica rambo e miss marvel e ho visto il trailer devo dirvi che sembra il solito film onestamente non vedo grandi cambiamenti l'unico spunto è che questo trio deve essere obbligato dal fatto che la cattiva fa una cosa con un bracciale per cui divide i poteri di capita marvel credo che vanno anche un po alle altre due cioè che si devono scambiare i poteri queste tre quindi devono collaborare essenzialmente per battere la cattiva che sono costrette questo è uno spunto interessante può dare adito può dare spazio delle gag speriamo non troppe ma essendoci miss marvel che è un passo che non apprezzo minimamente troppo teen onestamente mi sa che ci saranno però punto su un un affresco un aspetto generale di intattenimento senza pretese spero che sia una cazzo di avventura con tutte donne che usano i superpoteri non voglio lo smonologone alla barbie non voglio smonologoni voglio una roba semplice no senza troppi collegamenti con il resto che spunto a un certo punto capitano america oppure esce strange da un'altra dimensione che non sarà però voglio una cosa semplice spero sia così il trailer è carino ho visto la base spaziale è carina funziona se già sembra accettabile anche la cattiva interessante per quello che si vede potrebbe essere interessante tutto sommato sull'ironia ho visto che dal trailer sembrerebbe che brillarsene quella più seriosa monica rambo che non è un personaggio che mi che mi faccia impazzire no onestamente un po inutile come presentato in mandavision però vabbè hanno i loro costumini carini ci sta la rambo potrebbe essere la via di mezzo seriosa ma non troppo e poi c'è kamala khan che invece sarà quella che spara stronzate non lo so senza kamala khan magari mi avrebbe interessato ancora di più però c'è bel arson io lo vado a vedere e ho un minimo di speranza solo per lei era molto bella nelle immagini si vedono molto bella cioè nick fury ha scena dei gatti voglio scoprire che cos'è la scena dei gatti tanti gatti cosa ci facevano e voglio vedere minimo di curiosità ce l'ho che magari questo sia il film della fase 4 del mcu da post range un pochino decente no cioè questo sean c e strange 2 che sono almeno guardabili oltre alle serie anche se sì che ti invece non mi sta dispiacendo ma la prossima settimana quando la finirò bene parlerò va bene andiamo avanti siamo veloci oggi siamo da soli quindi così terzo mission impossible death reckoning spero si scriva così spoiler perché spoiler perché abbiamo fatto uno spoiler e c'è una recensione e della settimana scorsa mi fa e no aspetta è uscito da poco va bene parlo oggi spoiler perché sì non mi ricordo quando è uscito però non l'ho fatto qua sull'arca news e quindi death reckoning finché è incassato benissimo già da lunedì no che è stato citato nell'arca news e come box office ha incassato bene non ne ho parlato spoiler come detto allora andiamo meglio a a capire perché non mi sia piaciuto c'è alcuni spunti interessanti altri no ma corri fa un buon lavoro appunto di vista visivo secondo me riesce anzi un film che ha un'idea intelligenza artificiale e quindi che controlla e che deve essere distrutta più che il terrorista russo macchietta che fa distruggerò mondo ecco è una cosa in più che ho apprezzato però però c'è troppa roba nel senso che parte in modo semplice perché una spy story deve essere semplice fra virgolette ma intrigante non deve esserci il triplo colpo di scena la shamalan e sul finale si complica tutto perché il tizio aspettate ma i nomi mi sono dimenticati il villain il santone si scopre che è in combutta come si chiamava come si chiamava gabriel ecco gabriel si scopre che in combutta con kitteridge che in realtà era il buono a cui si volevano riferire poi rebecca ferguson e tom cruise no scusa non non rebecca ferguson la te i nomi ce la faremo grace e will at well no che con cui si è detto sei morta se però ti proponi al all emma e mai s no dici che vuoi entrare nel nel giro magari ti salvi la vita ecco kittwell poi è il cattivo che fa affari con con manessa kirby ma è in combutta anche con gabriel ma è troppo si poteva anche tagliare quella parte finale fin poi dura 20 minuti di troppo con cui l'inseguimento senza senso a roma che sembra una pagliacciata per come per come rappresentato l'italia per poi un tono comico in un film molto serioso quindi anche qua c'è lo stesso problema di barbie se vogliamo non è che va sempre bene mettere la comicità e poi il dramma devi saperlo fare si può fare ma devi saperlo fare deve essere competente e non tutti lo sono ecco film oltre che sia troppo complicato sul finale e tutta quella scena sembra che si porta che si che si porti avanti il finale del film che è già arrivato se tu dici al film è finito ok ma dobbiamo vedere altri 20 minuti per carità la scena del treno che si piega quindi loro precipitano è interessante però magari se fosse arrivata prima l'avrei sentito meno la parte centrale un po pesante perché c'è una parte iniziale che funziona una parte finale che funziona e la parte centrale invece è troppo troppo densa di avvenimenti che magari non sono fondamentali per la trama quindi è un film che vorrei apprezzare però anche questa io no questo questi computer quindi è molto temibile il problema è che non si capisce perché questa super intelligenza artificiale non agisca sempre cioè riesce a bloccare che ne so all'aeroporto le telecamere per non far vedere come si chiama sto stronzo qua si chiama gabriel ok però non riesce a bloccare che so l'auto di ant quando deve partire deve scappare allora devi spiegarmi questa intelligenza artificiale quanto potere ha fin dove può agire che se mi avessero detto questo qua un potere tale che nel raggio di 500 metri da dove ha il suo satel non al satellite posso dire una sua manifestazione fisica che il villain si porta dietro in quel raggio di 500 metri funziona perché sennò uno si fa domande si chiede ma sta supercazzola del film della serie è tutto succede per un per una scelta dall'alto quindi la macchina sapeva ecco che gabriel sul treno avrebbe raccolto da terra il l'oggetto che cercava come aveva predetto però se noi vediamo la scena finale un po casuale come ci arriva però uno può dire è però la macchina lo sapeva perché ha fatto calcoli con le con le probabilità è un po la supercazzola come tutto il film che sembra essere spinto da elementi che portano da una scena all'altra troppo casuali che però il film giustifica con è però la macchina l'aveva predetto ecco un po questo il problema cioè non è stringente il potere di questo villain che è potentissimo a volte per la sceneggiatura funziona a volte serve a volte non serve e quindi non no carina la scena quella a venezia sul ponte quando e l'anni è piaciuto l'intelligenza artificiale fa sì di allontanare ant dal luogo dell'incontro a gabriel e e i nomi e sono importanti nella vita rebecca ferguson ilsa faust e ilsa muore telefonatissimo ovviamente quindi questo film insufficiente che però rispetto ad altri di mission impossible che non è una saga che che mi sta prendendo è minimamente l'abbiamo vista tutta in watch sul canale di nick delarge non mi sta prendendo però questo tutto sommato per un po mi ha molto intrattenuto e mi ha fatto riflettere anche perché gli attori si sono impegnati per il resto un po così ora poi la il prossimo film uscirà non so a quanto tempo ho visto lo sciopole di attori e di sceneggiatori ce ne faremo una ragione insomma e chiudiamo con i film visti da me negli ultimi giorni vi do due giudizi se viva di prenderlo in considerazione meglio diary letterbox il mio arcadi in zero hammer ci avete anche scritto sotto se viva di darci un'occhiatina questi non valgono perché li avevo visti tempo fa dello studio ghibli e e ho dato un voto quindi c'è chi chieste due forse ve ne avevo parlato l'avevo visto il primo chieste due un film che fa male ammettere che davvero brutto perché l'idea alla base c'è il primo film di chi che essere brutto però era semplice tra il supereroe sbagliato la gente cazzuta semina è un po scemo e basta e invece questo secondo vuole indagare meglio su tanti personaggi che reagiscono alla alla violenza interessante questa critica all'america se vogliamo violenta ad ogni costo cioè uno si deve si deve la mattina e dice di fare il vigilante e ammazzare la gente oppure fare il supercriminale oppure che va con una pistola e va in giro e sparo è interessante per carità però non è che sia tanto nuovo come tema vabbè è interessante perché si vuole indagare sull'essere brave persone oppure essere come detto violenti il personaggio della della bambina del primo film che qua è cresciuta la figlia di nicolas cage non voglio cercare i nomi è interessante che lei debba tornare alla sua vita normale però la parte dove si prende per culo pure tutto il mondo delle cheerleader delle bionde è troppo sarebbe stato molto interessante una cosa più immediata cioè lei che fa una vita da brava persona e poi fa la scelta di andare a combattere invece così è proprio devo stare lì a fare il bene per le strade oppure devo che ne so cercare di accattivarmi la simpatia della della cheerleader stronza la più la più bella della scuola è un po una una scelta alla si chiama all'american pie non funziona anche perché il film poi vuole essere drammatico si prende sul serio con storie toste anche qua si mischiano i generi troppo lungo si vede che artificioso non ce l'ho capito un cazzo di sto film mentre lo scrivevano erano in due tre e uno detto beh io ci metto una parte comica tu quella drammatica però non si sono dosati si sono dosati il villain è ridicolo cosa mi rappresenta niente poi cattiva coscienza portato la recensione sul canale cattiva coscienza è una nel tentativo italiano di fare la solita commedia del cazzo mezza moralista quindi di eredità di un pensiero ideologico pseudo cattolico soliti quattro valori un po la muccino di le corna il matrimonio la coppia eterosessuale rigorosamente eccetera eccetera con st'invenzione di inser out c'è l'obiettore di coscienza che un tizio nella tua testa che esiste davvero allo questo tizio deve scendere sulla terra perché vuole che il suo assistito la sua persona che lui controlla faccia la faccia la cosa giusta quindi diventa tre uomini è una gamba è una cazzatona importante se vogliamo dire così c'è una cazzatona che appare come una soluzione rivoluzionaria per quello che per quello che l'innesco primo tempo ma poi il solito filmetto di muccino mal recitato ma recitato e leggera leggera mestierante e triste perché il cinema europeo si evolve noi no sempre i soliti film almeno che non copiamo il set out della pixar the queen mary per censare sul canale qui è un film terrificante terrificante un horror come tanti però su una nave ho detto dai magari cari sai si punta sulla location quindi è il solito il solito horror del cazzo dove è noioso jumpscare quello lo sappiamo ma c'è un aggravante non lo so perché nel mio cinema era così ma penso anche negli altri non si vede niente con la scusa di è tutto buio siamo su una nave tutto buio non si vede niente per il 90 per cento del film si vede molto poco non vedi le figure delle delle persone c'è una due scene al sole proprio che si vede bene le altre sono tutto al buio di notte è una cosa tremenda è un montaggio da galera dura tantissimo due ore passa è un film terribile terribile per al cinema the queen mary poi barbie l'ultimo che ho visto però non ve ne posso parlare perché abbiamo già fatto prima e duel che sarà argomento della autopsia dei film però analisi scena per scena che il mio format che mi piace di più di punta vorrei dire ma non è per la visualizzazione non è il mio formato di punta comunque quello a cui tengo di più stasera alle 21 parliamo di duel di steven spilberg che devo finire di vedere comunque tanta roba opera prima di spilberg per ora e quindi chiudiamo qua così vado anche a fare la spesa vi vi do queste news perché ho una fame fottuta prima della live di nick de l'arcio sul memento alle 16 e 30 tanto voi lo vedete dopo questo video penso prima delle 16 e 30 quindi niente fatemi sapere qua sotto cosa ne pensate torniamo lunedì con le arca news col box office il lunedì è sempre una notizia box office ok e magari facciamo barbie spoiler e chiediamo a nick de l'arcio che ha visto in anteprima a star of the city di was anderson all'anteo e alti film del festival di canne di di parlarci di questi film ok alla prossima ciao ragazzi